Le Crystal Up sono delle penne straordinarie, interessantissime per la gamma particolare di colori. Partiamo da un viola, come vedete, da un nero, poi abbiamo questo blu, molto interessante, non profondo, poi abbiamo un rosso, come vedete, scarlatto, un verde erba, poi abbiamo un rosa particolare, pastello, e abbiamo un verde smeraldo e un azzurro celeste. Una penna che ha una sfera di 1,2 mm, quindi 0,2 mm in più della Bic Crystal Original. Eccola, la linea Crystal Up.